Oss 2021 continua, siamo allo stand della San Marco con Francesco Costanzo, il brand ambassador dell'azienda, proprietario anche della micro roastery Costanzo di Frattamaggiore in provincia di Napoli. Francesco bentornato. Ciao, salve e grazie per avermi dato questa opportunità Fabio di Oreca News. Oggi siamo qui dinanzi alla nostra D-Collection della San Marco. Che dire Fabio, oggi abbiamo la super tecnologia, immaginando che negli anni in passato non si superava i due bar e avevamo le temperature molto molto elevate, ma per oggi la San Marco ha creato un nuovo lavoro, quello che è della Roma Teller, che è il barista oggi con la super tecnologia della San Marco di Collection e possiamo variare vari profili di temperatura, vari profili di pressione, dove il barista può fare tantissime ricette con dei caffè particolari di specialty 100% arabica e blend. Mostraci come. Ecco, guarda, allora, ti faccio proprio un caffè. Allora, noi abbiamo oggi la macchina D ha tante varianti, quindi un attimo solo, ti faccio vedere. Io ti seguo nel frattempo. Sì, io ti faccio un espresso così ti illustro come questa macchina, che cosa è capace di fare, quindi per il barista oggi è una passeggiata. Il pressino, è indispensabile il pressino per dare omogeneità alla pressione. Sono di 25 kg ed ecco, allora, Fabio facciamo una preinfusione ed ecco, noi stiamo estraendo questo caffè, prendo due tazzine che così dopo te lo faccio vedere com'è. Allora, stiamo estraendo questo caffè a 94 gradi dove abbiamo impostato questa temperatura per far sì che questo tipo di caffè esce nel suo modo migliore. Quindi, vedi, qua abbiamo il profilo di temperatura che è impostato, ascendente, che varia di due gradi e mezzo e in profilo di pressione costante. Questa macchina è capace anche di impostare il profilo leva che la San Marco ha voluto fortemente con questa nuova macchina per i cento anni e sempre con la pressione, come se un balista avesse la macchina a leva invece della macchina automatica. E noi ora prendiamo il caffè appena estratto, vediamo se riusciamo a farlo vedere in camera, vediamo un po', credo, ecco qui, ecco qui, l'estrazione è davvero strepitosa. Francesco, grazie alla nostra, ai vostri cento anni. Grazie mille.